Ben ritrovati con l'informazione di TRMH24 in apertura alla politica, la giornata di oggi segnata in Puglia dallo sciopero generale della CGL, presente anche il segretario Landini, una manifestazione contro la manovra economica del governo Meloni. Presente anche Emiliano, il presidente della regione Puglia, che ha dichiarato una manovra economica che danneggia chi soffre di più. Ascoltiamo. In più di 2000 hanno sfidato la pioggia a Bari partecipando allo sciopero generale della CGL contro la manovra economica del governo Meloni, una manovra sbagliata da cambiare lontana dalle esigenze reali del Paese, ha puntualizzato il segretario generale Maurizio Landini. Noi siamo qui perché la manovra è sbagliata e chiediamo che venga cambiata questa manovra. In particolare le cose centrali sono salari, potere d'acquisto, bisogna abbassare la tassazione sul lavoro dipendente, sui pensionati. Questa cosa non viene fatta, anzi si continua a far pagare le tasse ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, alcune operazioni si fanno alzando la flat tax che è la cosa più ingiusta di questo mondo. E poi c'è un tema fondamentale che questa legge finanziaria non affronta perché non c'è una parola e non c'è un'idea sullo sviluppo del mezzogiorno. E questa è un'altra cosa molto grave, anzi continuano a parlare le forze di governo di autonomia differenziata, che è esattamente l'opposto di quello che noi abbiamo bisogno. Non potevamo non manifestare e scioperare qui in Puglia contro una manovra che colpevolizza e punisce i poveri, aumenta la precarietà, premia gli evasori e favorisce l'iniquità del sistema fiscale, ha puntualizzato anche il segretario regionale Pino Gesmundo. Nel serpentone rosso che ha attraversato Bari ha anche il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. La manovra favorisce i ricchi a danno di chi soffre di più, ha dichiarato. Agevolare gli evasori fiscali, non tassare i sovrapprofitti che sono stati realizzati a causa dell'aumento dei costi dell'energia, non intervenire su quelle sacche di redistribuzione del reddito, significa in questo momento colpire l'Italia al cuore e assecondare in maniera debole, anche oltre forse le intenzioni politiche di questo governo, assecondare chi è ricco ai danni di chi in questo momento sta soffrendo. Ci spostiamo in Basilicata. La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ha parzialmente approvato il bilancio della regione del 2021. Rispetto al giudizio di parifica dell'anno scorso non si registrano significative novità. Continuano infatti a permanere le criticità che affliggono i vari tipi di controlli effettuati nell'ambito delle rispettive competenze dal Consiglio e dalla Giunta regionale. Recitano così le motivazioni contenute nella relazione del procuratore regionale della Corte dei Conti della Basilicata, Vittorio Raeli, che hanno giustificato la richiesta di parifica parziale del bilancio della regione Basilicata per l'anno 2021. Il collegio, composto dal presidente della sezione di controllo, Giuseppe Tagliamonte, dei due consiglieri, Rocco Lotito e Lorenzo Gattoni, dopo l'udienza durata circa due ore, si è riunito in Camera di Consiglio e a rientro in aula a letto la sentenza che ha di fatto confermato la richiesta di parifica parziale di Raeli. Infatti sono state diverse le eccezioni sollevate sui conti dell'ente regionale. Tra le più significative eccezioni dei magistrati contabili, le nomine dei direttori generali esterni avvenute solo intuito persone, scelta definita dal procuratore una mortificazione per i dirigenti in servizio, nonché il bilancio di Acquedotto Lucano, che una recente sentenza della Corte di Cassazione ne ha definito la reale natura dell'ente, società in house della regione Basilicata, sulle spese destinate alla sanità lucana. La situazione conosce sempre criticità da una parte, in alcuni casi c'è stato qualche miglioramento, direi in casi marginali. La situazione che si può intravedere attraverso l'esame di questo rendiconto è comunque di una amministrazione in affanno nel rispettare le scadenze. Il fatto che sia arrivata la parifica già è un dato importante, è chiaro che ci sono stati fatti dei rilievi, noi ci stiamo organizzando e io sono convinto che finalmente nella prossima parifica dovremmo andare meglio. L'esame è un esame difficile, d'altro canto noi scontiamo ancora le difficoltà che abbiamo incontrato per la pandemia. Passiamo alla cronaca, arrestate nove persone a Foggia dopo la maxievasione dal carcere del 2020, tra loro anche il super ricercato Aguilar Cristoforo. Nove ordinanze di carcerazione emesse dalla Corte d'Appello di Bari sono state eseguite dai carabinieri di Foggia nei confronti di altrettanti detenuti protagonisti della maxievasione dal carcere del capoluogo Dauno del 9 marzo del 2020. Tra i nuove c'era anche l'ex ricercato Cristoforo Aguilar a processo in Corte d'Assisi a Foggia per l'omicidio dell'ex suocera Filomena Bruno. La 56enne di Orta Nova nel Foggiano uccisa con sei coltellate sul pianerottolo della sua abitazione il 29 ottobre del 2019. La Corte di Cassazione, ritenendo inammissibili i ricorsi delle difese, ha reso quindi definitive le condanne per i reati di rapine in concorso e condannato a quattro anni di reclusione gli imputati. La mattina del 9 marzo del 2020 oltre 80 detenuti, tra cui nove carcerati quest'oggi, fuggirono dal carcere Foggiano dopo le proteste seguite ai disordini legati alla pandemia da Covid. I fuggitivi commisero alcune rapine di autoveicoli commesse a danno di un'officina e di alcuni privati per poter guadagnare la fuga. Nel giugno del 2020, nove condannati insieme ad altri detenuti e vassi sempre in quella circostanza, furono arrestati su disposizione della magistratura foggiana. Ancora dal fronte della cronaca, si indaga per frode fiscale. Finita nei guai una società di capitali a Taranto, sono stati sequestrati beni per 3 milioni di euro. Sentiamo. Diverse le ipotesi di reato, ma il sequestro di beni mobili e immobili dal valore di 3 milioni di euro è certo. Accade a Taranto, dove i militari del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza hanno dato il via al sequestro nei confronti di una società di capitali di Taranto. Le attività investigative hanno permesso di disvelare l'esistenza e l'operatività di un sodalizio criminale con base operativa a Taranto e ramificazioni nelle province di Napoli, Ravenna e Brindisi, il cui fine sarebbe stato quello di consentire ad una società di capitali tarantina di conseguire ingenti risparmi fiscali. Nello specifico, dalle investigazioni, è emerso che nel periodo 2014-2019 la società di capitali, attraverso l'annotazione di fatture per operazioni presumibilmente inesistenti emesse da nove società con sede in Puglia, Campania ed Emilia-Romagna, per un ammontare complessivo di circa 3,1 milioni di euro, avrebbe illecitamente detratto l'IVA per oltre 1,5 milioni di euro. Ancora dagli accertamenti eseguiti sarebbe emerso che la società beneficiaria dei risparmi fiscali avrebbe compensato nel 2017 i propri debiti tributari con crediti d'imposta fittizi per investimenti nel mezzogiorno e per ricerche e sviluppo per quasi 210 mila euro. Tale condotta sarebbe stata tenuta nel periodo 2016-2018 anche dal rappresentante legale di una delle società emittenti le fatture. Gli approfondimenti avrebbero poi evidenziato l'omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini dell'IVA per l'annualità fiscale 2016 con la presunta evasione dell'imposta dovuta per oltre 95 mila euro. È stato approvato dalla Regione Puglia il documento programmatico utile all'operatività dei finanziamenti a sostegno dell'agricoltura. La Puglia potrà contare per gli anni 2023-2027 su poco meno di 1,2 miliardi di euro. L'ha annunciato l'assessore regionale alle politiche agricole Donato Penta Suglia. Continua, ha commentato l'assessore, l'impegno in favore di un settore fondamentale per l'economia regionale che assume sempre maggiore rilevanza nel contesto nazionale che grazie alle eccellenze dei nostri prodotti affronta le sfide dei mercati globali. Dal 1 gennaio del 2023 il programma di sviluppo rurale diventa piano strategico nazionale, ha ricordato ancora l'assessore, e di questo PSN vogliamo essere fattivamente protagonisti. Restiamo nell'ambito dei lavori della Giunta pugliese poiché la Giunta regionale ha nominato quattro dei cinque componenti di sua competenza del nuovo Consiglio di amministrazione di aeroporti di Puglia. Sono stati confermati Antonio Vasile che continuerà a essere il presidente del Consiglio di amministrazione e Rosa Maria Conte. Le new entry invece sono Vania Romano e Ilaria Morga, quest'ultima ex assessora a Monopoli con il sindaco Angelo Annese. Ritorniamo a occuparci di agricoltura poiché è stata presentata questa mattina a Bari il nuovo fondo Agricat. Si tratta di una misura che aiuterà gli agricoltori a difendersi dei danni degli eventi atmosferici estremi. Dal 2015 al 2021 a causa degli eventi atmosferici estremi sono andati persi in Puglia 130 milioni di quintali di cibo. E' emerso nell'incontro organizzato nella fiera di Bari da Asnacodi, l'associazione nazionale dei consorsi di difesa, insieme a Condifesa di Puglia, Basilicata, Calabria e Campania, in collaborazione con la regione Puglia e Ismea. Un evento voluto per presentare il nuovo fondo Agricat. Per Coldiretti Puglia necessaria una stretta sugli strumenti innovativi per tutelare prodotti agricoli e agroalimentari e reddito delle aziende agricole. L'eccezionalità degli eventi atmosferici con tornado, nubi fragili, gelate e siccità estrema è ormai diventata la norma, tanto che siamo di fronte ad una evidente tendenza alla tropicalizzazione che, ha sottolineato Coldiretti Puglia, si manifesta con una più elevata frequenza di eventi violenti, con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi, ma solo il 2,6% della superficie agricola risulta assicurata in Puglia. Il sistema Condifesa Puglia ha assicurato oltre 120 milioni di quintali di prodotti agricoli in 5 anni, risarcendo più di 45 milioni di euro di indennizi, mentre nel 2021 il valore assicurato è stato di oltre 500 milioni di euro su oltre 60 mila ettari di superficie agricola. Dal 2023 il sistema di gestione del rischio in agricoltura si potrà dunque avvalere di una copertura mutualistica di base, il Fondo Mutualistico Nazionale Agricat, obbligatorio per tutte le aziende agricole e per cettrici di pagamenti diretti contro i danni alle produzioni causati da eventi avversi di natura catastrofale, uno strumento progettato nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Negli ultimi dieci anni abbiamo avuto all'incirca 3 miliardi di danni con numerosi episodi di questi eventi catastrofali che hanno portato a minare veramente alla base l'attività agricola, la resilienza delle aziende agricole. Bisogna incrementare assolutamente questo fondo e il ricorso alla copertura assicurativa perché questi sono eventi estremi che si ripeteranno sempre di più e accanto agli eventi estremi ci sono anche gli eventi leale del mercato che mettono a dura prova tutte le aziende della Puglia. L'associazione Bari Eco City si è riunita per richiamare l'amministrazione comunale. Basta greenwashing, queste le parole del Presidente Giuseppe Carrieri. Sentiamo. La Bari ambientalista alza la voce. L'associazione Bari Eco City, nata nel 2019 per sostenere lo sviluppo sostenibile e per raggruppare tutti i cittadini sensibili a queste tematiche, si è infatti ritrovata per presentare l'ultimo Urban Video Report del 2022 e per lanciare un chiaro appello all'amministrazione comunale. Basta greenwashing, ovvero ambientalismo di facciata e più azioni concrete. Abbiamo documentato attraverso le foto dei cittadini e gli articoli di stampa che si sono susseguiti in quest'anno quali sono le innumerevoli criticità ambientali di questa nostra città, purtroppo, diciamolo purtroppo. Dalla mobilità pubblica attraverso mezzi a gasolio invece di mezzi elettrici, dalla raccolta differenziata abbiamo un tasso del 39% che grida vendetta, sono città italiane che siamo all'88%, dal verde urbano abbiamo tassi di verde pubblico per abitante bassissimi, nuove alberi per abitante sono numeri che sono assolutamente insufficienti per consentire ai cittadini di vivere bene. E così sotto tanti altri punti di vista, io penso anche alla produzione di energia rinnovabile sui tetti pubblici, abbiamo numeri bassissimi e abbiamo invece la possibilità di produrre energia pulita utilizzando i tetti dei palazzi comunali, abbiamo bisogno insomma di un comune che non faccia operazione di greenwashing ma che effettivamente si occupi dell'ambiente urbano. Cambiamo argomento, sono stati oltre 500 i giovani ingegneri ad aver preso parte al Recruiting Day di Acquedotto Pugliese organizzato al Politecnico di Bari guidato dal Rettore Francesco Cupertino. Obiettivo dell'iniziativa è stata quella di cercare nuove risorse da inserire nell'organico di uno tra i maggiori prayer nazionali nella gestione del ciclo idrico integrato. Nell'ambito del nuovo piano strategico al 2026 è infatti prevista l'assunzione di 635 persone secondo un programma di rafforzamento e innesto di nuove competenze tramite programmi formativi e manageriali sviluppati dalla ACOP Water Academy. E ci spostiamo invece ora a Barletta, si è tenuta questa mattina la cerimonia di consegna delle onorificenze al merito della Repubblica Italiana, 9 in tutto i premiati. Medici, componenti delle forze dell'ordine e docenti sono le professioni dei 9 cittadini della provincia di Barletta, Andrea Trani, insigniti dell'onorificenza al merito della Repubblica Italiana, a consegnare il riconoscimento sulle note dell'inno di Mameli la prefetta Rossana Riflesso. I cittadini premiati si sono contraddistinti negli ultimi anni in ambito sociale e umanitario. Tra le onorificenze conferite anche quella alla memoria al dottor Andrea Sinigaglia, dirigente medico a capo della struttura di Biceglie durante la fase più acuta dell'emergenza Covid. Sì, assolutamente, le onorificenze sono sempre più rare, vengono conferite sempre con maggiore difficoltà, proprio per riconoscere effettivamente il valore del lavoro svolto, delle attività di beneficenza, filantropia che si sono avute nella propria esistenza. Abbiamo avuto tre medici insegniti, uno dei quali purtroppo è venuto a mancare pochi mesi fa, è stato un momento estremamente commovente. Sicuramente è un riconoscimento importante, devo dire che mi emoziona molto aver ricevuto questa onorificenza perché è un po' il coronamento di una vita tutta spesa dedicata per il bene comune, per la collettività, per la tutela della legge e della legalità. Ricevere un riconoscimento di questo genere mi rende orgoglioso per me e per tutta la comunità sanitaria che in questo periodo si è sacrificata, limitando anche le proprie attività familiari e di vita quotidiana. Un ringraziamento a tutti per l'operato che hanno fatto. E si è riunito per la prima volta oggi in Puglia il Consiglio dei Giovani, progetto Nato con l'obiettivo di creare una connessione stabile tra il Palazzo e i territori, tra il Consiglio e le ragazze e i ragazzi di Puglia che vivono ancora troppo forte la distanza tra cittadini e istituzioni e che invece devono essere messi nelle condizioni di sentirsi protagonisti di ogni scelta, stimolati a un percorso oggi più che mai necessario di cittadinanza attiva. Il Consiglio è composto da 46 studenti eletti negli istituti pugliesi, edilizia scolastica, educazione civica e necessità di rinsaldare il rapporto con le istituzioni. Questi sono stati i principali temi affrontati all'insediamento del Consiglio dei Giovani, presente anche la Presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone. Cambiamo ora argomento. Ieri a Matera in occasione della giornata nazionale del CECO, Ciav, cinema d'alta voce. Vediamo di che cosa si è trattato. Tutti bendati, ciechi, ipovedenti e normovedenti, davanti a loro una inedita esperienza culturale, racconti cinematografici narrati e musicati dal vivo da un team di creativi, sceneggiatori, attori, musicisti e rumoristi. Al centro della performance tre cortometraggi e un lungometraggio adattati per una lettura drammaturgica di circa 45 minuti. È il Ciav, il cinema d'alta voce, prodotto dal consorzio concreto Cineparco Tilt con il Lucania Film Festival e l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. L'iniziativa pensata per la giornata nazionale del CECO, tenutasi ieri al Museo Ridola. Nell'evento noi daremo delle bende che chi vorrà potrà assistere allo spettacolo, e bendandosi, proprio per avere un effetto e capire l'importanza degli altri quattro sensi. Senza la vista dobbiamo stare molto più attenti. Questo è il significato. Il significato importante è dell'integrazione del non vedente nella società e anche nella musica e nel cinema. Ecco perché siamo qui. Ciav ha come obiettivo quello di decantare, di adattare opere cinematografiche sotto forma di performance dal vivo, nel senso che alcuni lavori del Lucanet Film Festival saranno tradotti, saranno letti dal vivo da voci di attori e di attrici lucani, performati insieme a musicisti e rumoristi. È stato un processo per noi bellissimo, artistico, in cui abbiamo messo a sistema quello che abbiamo imparato negli scorsi anni sull'opera lirica, accessibile, per generare sempre di più la coesione sociale attraverso l'arte, il cinema, la musica e tutto ciò che la cultura può e deve darci nel nostro contemporaneo. Ci spostiamo a Taranto dove è stata presentata l'iniziativa Il Natale tra i vicoli del Medioevo, prevista per il 17 e per il 18 dicembre. San Francesco e Federico II, protagonisti del Natale a Taranto. Nel capoluogo ionico il 17 e il 18 dicembre in programma il Natale tra i vicoli del Medioevo, manifestazione e ingresso gratuito che richiamerà le tradizioni natalizie del XIII secolo. Organizzatrice dell'evento è l'Associazione Cavalieri dell'Italia Tarantine, in collaborazione con l'amministrazione comunale. Il sabato dalle 17 fino alle 21 e 30 e la domenica dalle 10 e 30 fino alle 21 e 30 luoghi, spazi, vicoli si animeranno di frammenti di vita quotidiana, di racconti e quant'altro. È da tempo che avevamo il desiderio di fare un qualcosa di così caratterizzante nella nostra splendida città vecchia, anche perché in questo periodo abbiamo davvero bisogno di creare delle iniziative che possano ripopolare questo territorio nell'ottica di sviluppo e rigenerazione che stiamo portando avanti. Nel percorso a disposizione dei turisti è previsto anche l'allestimento di una classe di ragazzi della scuola dell'epoca, grazie alla collaborazione con l'Istituto Frascolla. Il 17 dicembre al Palamartino di Bari si terrà a Natale Insieme, uno spettacolo che mette al centro della festività il sociale. Integrazione, inclusione, intergenerazionalità sono le tre parole chiave di Natale Insieme, iniziativa organizzata dalle associazioni Antias Bari e Anolf Bari. Insieme è una parola fondamentale per poter vivere meglio in tempi che sono sinceramente piuttosto difficili e che mettono in difficoltà tante persone. Il volontariato deve andare verso gli altri e deve andare stando insieme con gli altri e mettendo insieme tutti gli altri, che sono i giovani, sono gli anziani, sono i migranti anche, perché si faccia il bene comune sempre insieme come nel principio del volontariato. Lo spettacolo in scena il 17 dicembre al Palamartino di Bari è patrocinato dall'assessorato al welfare del comune con il sostegno della CISL e FNP CISL pensionati Bari. Un'iniziativa che mette insieme tante famiglie, tanti bambini, tanti anziani, in un'ottica di inclusività e anche intergenerazionalità. È un'occasione legata ai temi del Natale, è anche un'occasione per creare relazioni e comunità attraverso un grande spettacolo. L'evento è stato presentato a Palazzo di Città e sarà l'occasione per approfondire la conoscenza reciproca tra le culture che nelle nuove generazioni vivono ormai una piena integrazione. Spettacolo, musica, danze e folklore che uniscono persone di diverse etnie ed età, come sottolineato dalla presidente Anolf Bari Sandrine Rich. All'interno di questa iniziativa ci sono oltre che musica, danze non solo italiane, proprio con comici baresi e pugliesi tipici, quindi proprio per mostrare la tipicità proprio, ma anche le danze di altri paesi. E quindi è un momento di condivisione per proprio far conoscere sia ai cittadini italiani il mondo anche delle altre culture, ma anche viceversa. E in chiusura allo sport, il portiere del Baricarcio, Elia Caprile, è carico per la trasferta di sabato a Reggio Calabria. I tre punti permetterebbero al Bari di agganciare la regina al secondo posto. A Reggio mi aspetto 90 minuti difficili, tosti, belli, intensi, anche perché so che c'è il gemellaggio tra le due tifoserie, quindi sicuramente ci sarà una cornice di pubblico importante. Non vedo l'ora che sia sabato. Grande attesa dunque per la partita che il Bari giocherà sabato prossimo alle 20.30 a Reggio Calabria contro la regina, seconda in classifica. I calabresi distano solo tre punti. Anche il giovane portiere Elia Caprile sa che vincere non è obbligatorio, ma darebbe la svolta al campionato bianco-rosso. Non è un obbligo, però è ovvio che noi come squadra puntiamo a vincere e sappiamo che se vinciamo sabato andiamo secondi, quindi è un'idea che sicuramente ci stuzzica. Siamo pronti per affrontare la partita, la stiamo preparando bene, speriamo di fare del nostro meglio e speriamo di portarla a casa. Caprile è una delle rivelazioni di questo campionato e per questo il suo nome è già appetibile sul mercato, anche di Serie A. Il mio nome è accostato a tante squadre, sì, è vero, però non c'è niente di concreto, non c'è niente di reale e come ha detto il mio procuratore l'altro giorno, io sono concentrato sul Bari e a meno di clamorose cose sono d'accordo col direttore, sono d'accordo col mio procuratore. Almeno fino a giugno il Bari mi dovrà sopportare e i tifosi baresi mi dovranno sopportare. Caprile è sicuramente una scommessa vinta del DS Biancorosso Ciro Polito. Al direttore devo tanto perché è stato l'unico che realmente ha creduto in me questa estate, anche se avevamo parlato con tante squadre, l'unico che alla fine aveva mostrato veramente interesse e ha mostrato veramente di credere in me è stato solo il direttore. Quindi a lui devo sicuramente tanto. Poi tra me e lui si è creato un bel rapporto, ovviamente io potrei essere suo figlio perché comunque abbiamo vent'anni di differenza, qualcuno in più, però mi aiuta a tenere i piedi per terra, mi dà dei consigli se magari c'è qualcosa che ho sbagliato in partita, me lo dice. Sempre comunque nel rispetto dei ruoli perché comunque c'è anche un preparatore dei portieri che mi sta aiutando ad essere quello che sono. E questa era l'ultima notizia. Noi ci fermiamo qui. L'appuntamento alle prossime edizioni.